Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui. Iniziamo subito la proiezione perché siamo leggermente in ritardo. Accanto a me c'è Anna Recalde Miranda, Le Cher e Le Granite, è il settimo film del concorso dei documentari italiani. Torniamo dopo due proiezioni precedenti a una forma più di ritratto, di racconto di una traiettoria, di una persona che adesso lo scoprirete nel film. Non so se Anna vuole anticipare qualcosa oppure rimandare tutto poi al Q&A. Allora, grazie per essere qui, grazie al Festival di Torino per aver selezionato il film. Io preferirei non dirvi niente, lasciarvi scoprire Shlomo, il protagonista e la sua storia, la sua vita e comunque sarò qui in sala poi per tutti i vostri dubbi, curiosità eccetera. Aggiungerei solo che è stato un incontro molto molto bello e che è una persona rara, con una storia effettivamente anche unica ma di una forza incredibile. Va bene, ci vediamo dopo.